Cristina Bolla, Liguria Film Commission. Oggi una grande vittoria per Albenga e per la Film Commission tutta. Sono in corso le riprese di Glass Boy. Che cosa possiamo dire di questa esperienza albenganese? Per incominciare a me fa molto piacere da ponentina organizzare delle attività di promozione del territorio come questa. Un progetto di visiva è sempre una promozione e un film internazionale come Glass Boy è proprio una testimonianza di come il nostro territorio può supportare progetti importanti di questo genere. Naturalmente le produzioni, provenendo da fuori Liguria, quando vedono il nostro territorio rimangono veramente colpite dal fatto che sia veramente molto polivalente il territorio e può ospitare produzioni di ogni genere. Quindi Glass Boy, che viene praticamente girato tra Genova e per quanto riguarda la parte Ligure e Albenga, ha trovato tutte le location necessarie in poco spazio. Per cui si ottimizzano anche i tempi del girato e gli spazi di recupero. Per cui è molto interessante per noi proporre il territorio e Albenga ha superato la prova brillantemente. In qualità di Film Commission avete già avuto dei feedback dalla produzione su Albenga? Beh, si sono molto soddisfatti sia del territorio e dell'amministrazione che ha appoggiato a pieno questo progetto. Per cui sì, c'è veramente una grande soddisfazione che poi ovviamente noi riportiamo al nostro territorio. Sì, veramente soddisfacente. Grazie. Grazie. Grazie.